In geografia il pianeta su cui viviamo prende il nome di Terra. La Terra è un pianeta che fa parte dell'universo ovviamente e di una parte dell'universo denominata Via Lattea. In questi video studieremo i movimenti della Terra e le caratteristiche dei tre ambienti fisici che la compongono, l'atmosfera, l'idrosfera e la litosfera. Vedremo anche la struttura interna del pianeta, i movimenti e le trasformazioni che il pianeta ha subito nel corso di migliaia di anni. Lo spazio sconfinato che comprende tutta la materia esistente prende il nome di universo. All'interno troviamo le stelle, i pianeti, i satelliti, nubi di gas e altri corpi più piccoli che sono asteroidi e comete. La galassia in cui si trova la Terra si chiama Via Lattea, comprende circa 300 miliardi di stelle secondo i calcoli degli astronomi. Una di queste stelle è il Sole, la stella attorno a cui ruota la Terra. Attorno al Sole ruotano otto pianeti, Mercurio, il più vicino, poi Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Tutti questi pianeti con il Sole compongono il sistema solare. I pianeti vengono divisi, in base alla loro vicinanza o lontananza dal Sole, in pianeti interni, quindi Mercurio, Venere, Terra e Marte, e pianeti esterni, perché sono a più grande distanza dal Sole. I pianeti interni vengono anche definiti pianeti terrestri, mentre i pianeti esterni vengono definiti pianeti giganti. La nascita, l'origine della Terra, viene fatta risalire a 4 miliardi di anni fa, quando all'interno di una nebulosa di gas e di polveri si sviluppò una forza di gravità che fece unire i materiali presenti in un unico enorme disco. Al centro di questo disco si costituì l'ammasso, da cui poi si sarebbe formato il Sole e tutte le altre componenti, tutti gli altri pianeti del sistema solare. La Terra è il terzo pianeta in ordine di distanza dal Sole e il quinto come dimensioni. Anche se non ce ne accorgiamo, la Terra in realtà non è immobile, ma compie tre movimenti. Un moto di rotazione, che è quello intorno al proprio asse, ed è quello che fa sì che ci accorgiamo del giorno e della notte, e che dura quindi circa 24 ore. Un moto di rivoluzione in senso anti-orario intorno al Sole e lungo un'orbita a forma di ellisse, è il moto che determina l'alternarsi delle stagioni e dura circa 365 giorni. E infine un terzo movimento che è uno spostamento insieme a tutto il sistema solare all'interno dell'universo, un universo in senso che, secondo gli studiosi, sta continuamente crescendo e quindi spostandosi. Il moto di rotazione, quello quindi intorno all'asse di rotazione della Terra, che è inclinato di circa 23 gradi rispetto all'orbita di rivoluzione, è quello responsabile dell'alternarsi del giorno e della notte, e dura appunto all'incirca 24 ore. I raggi del Sole illuminano quindi solo la parte della Terra esposta al Sole, mentre durante il moto di rotazione una metà del pianeta è esposto alla luce, l'altra metà è al buio. Il passaggio dal Sole, dalla luce al buio, dal giorno alla notte, è scandito da due momenti che sono l'aurora e il crepuscolo, due momenti in cui la luce solare, venendo appunto rifratta dall'atmosfera, genera questo cambiamento nella percezione, luminosa, che crea questi due fenomeni. Lo spostamento della Terra lungo la sua orbita di rivoluzione intorno al Sole, unito al fatto che l'asse di rotazione è inclinato e quindi non è perpendicolare rispetto a questo asse di rivoluzione, è il movimento che dura circa 365 giorni e che è responsabile dell'alternanza delle stagioni e di conseguenza, per il fatto appunto della diversa inclinazione dell'asse terrestre, responsabile anche della diversa durata del giorno e della notte. Se infatti la Terra fosse assolutamente perpendicolare all'asse di rotazione noi avremo ogni giorno dell'anno esattamente 12 ore di luce e 12 ore di buio. Questo invece avviene soltanto all'equatore dove appunto coincidente appunto con il punto di mezzo e quindi qui non abbiamo alternanza, differenza tra le durate di ore di luce e di buio. Le stagioni si alternano nel corso dell'anno a mano a mano che la Terra compie il suo movimento di rivoluzione e sono invertite rispetto ai due emisferi. Quindi quando nell'emisfero nord, quello dove ci troviamo noi, nell'emisfero boreale, è estate, nell'emisfero sud, quindi nell'emisfero australe, è inverno. I due momenti di cambio sono sanciti da due giorni fondamentali, il solstizio d'estate e il solstizio d'inverno. I solstizi cadono in due giorni precisi, il 21 giugno e il 22 dicembre. Il 21 giugno inizia l'estate nell'emisfero boreale a nord e l'inverno nell'emisfero australe a sud. Il 22 dicembre invece inizia l'inverno nell'emisfero boreale e l'estate in quello australe. Quando inizia l'estate è il momento del giorno dell'anno con il maggior numero di ore di luce, mentre invece quando inizia l'inverno è il giorno con il minor numero di ore di luce e quindi il maggior numero di ore di buio. Se i solstizi sono i giorni in cui la differenza tra il giorno e la notte è maggiore, al contrario gli equinozi sono i due giorni dell'anno in cui il di, il termine tecnico per indicare le ore di luce, e la notte hanno la stessa durata, 12 ore, perché i raggi del sole giungono perpendicolarmente all'asse di rotazione della Terra. Segnano l'inizio della primavera e dell'autunno con lo stesso sistema invertito di cui abbiamo detto adesso per i solstizi. Il 21 marzo segna l'inizio della primavera nell'emisfero boreale e dell'autunno in quello australe. Il 23 settembre segna l'inizio dell'autunno nell'emisfero a nord e della primavera nell'emisfero a sud. Al polo nord, dal 21 marzo, inizia il giorno polare. Per circa sei mesi il sole non tramonta mai ed è sempre giorno. Al contrario, al polo sud inizia la notte polare. Il 23 settembre i due eventi si invertono. Per via della rotazione della Terra, quindi del moto di rotazione sul proprio asse, abbiamo un fenomeno di cui ci accorgiamo ogni volta che viaggiamo lontano, cioè il fatto che nello stesso preciso momento diversi paesi del mondo hanno orari diversi perché hanno una posizione diversa rispetto al sole. Siccome la rotazione completa di 360 gradi si compie in circa 24 ore, la Terra è stata convenzionalmente suddivisa in 24 spicchi, 24 porzioni, in modo che in ogni porzione sia la stessa ora. Anche se dal punto di vista naturale è facile comprendere come in ogni punto della Terra, muovendoci appunto sull'asse est-ovest, ci sia una differenza dal punto di vista della luce solare. Per convenzione, quindi per avere una distribuzione chiara degli orari per tutto quello che sono le attività umane, si sono stabilite quindi 24 fasce, 24 zone, partendo a contare dal meridiano di Greenwich, che è il meridiano fondamentale e segna l'ora di riferimento per tutta la Terra. Procedendo verso est, si aggiunge un'ora ad ogni fuso orario attraversato, quindi Roma che ad esempio è gran parte dell'Europa, tolto appunto sostanzialmente il Portogallo e il Regno Unito, è quindi un'ora avanti rispetto al meridiano fondamentale e poi procedendo verso est due ore eccetera eccetera, dall'altra parte andando verso ovest si avrà un'ora in meno. Il meridiano opposto a quello di Greenwich, chiamato antimeridiano, segna la linea di cambiamento di data. Chi attraversa la linea provenendo da est verso ovest aumenta la data di un giorno, nella direzione contrario invece torna indietro, se possiamo dire in questo modo, di un giorno. Questo evento si nota particolarmente nella giornata, possiamo dire di Capodanno, quando abbiamo le notizie dei paesi che si trovano subito a ovest di questa linea, che iniziano per primi a festeggiare il nuovo anno. Mentre i paesi che si trovano a ovest di questa linea sono quelli che lo festeggiano per ultimi. Grazie. 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 Grazie.